Col potere dei soldi possiamo acquistare qualsiasi cosa, anche delle cose stupide come quelle che hanno comprato le persone ricche presenti in questo video. Sigla! Salve carissimi, io sono Nick Radogna e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete ben potuto capire dall'intro e dal titolo del video, oggi andremo a vedere degli oggetti tanto costosi quanto inutili che solo le persone ricche e senza cervello potrebbero comprare. Quindi lascia un bel like al video per supportarmi, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e seguimi su Instagram. Bene, adesso senza perdere altro tempo possiamo iniziare finalmente con il video di oggi. Buona visione! Gli animali domestici di solito li abbiamo tutti in casa e infatti a casa mia l'animale domestico sono io. Però ovviamente se tu ti compri un porcellino d'India gli compri la gabbia, la ruota di plastica, il cibo, eccetera. E quindi questo ricco qua, perché ha comprato un'armatura d'argento al suo porcellino d'India che costa 24.000 dollari e che deve andare a fare la guerra? Sì, col criceto di Troia! Ma non era il cavallo! La prima volta che ho visto questa immagine ho detto, eh che è sta cosa, il boccino di Harry Potter? E invece è un profumo che costa un milione di euro! E come possiamo notare su questa sfera viene raffigurato il cielo di New York. Chissà qual è bella fragranza ai mani questo profumo. E se fosse stato rappresentato Bari al posto di New York a che gusto sarebbe? Alle cime di rape? Probabilmente sì! Dopo aver visto il profumo e l'armatura per i criceti, qui abbiamo anche del cibo costoso. Ovvero questa pizza con tartufi bianchi, cipolle e pure di patate. Indovinate quanto costa? 150 dollari! E poi noi ci lamentavamo dei 16 euro della pizza di Cracco. Immaginate se fate la pazzia di comprarla e un vostro amico vi chiede un pezzo. Uè bro, come stai? Senti, non è che mi daresti un pezzo di pizza? No, perché questa pizza costa 150 dollari. Quindi, diviso 4, un pezzo viene a costare 37,5 dollari. Vattela a comprare. Ah ok, e perché hai speso 150 dollari per una pizza? Eh, io posso. Sono ricco. Ricco? No, tu si scema! Giustamente le grandi aziende che producono gli oggetti per persone ricche hanno pensato anche ai loro figli. Perché qui abbiamo lo zaino d'oro, che è quello di su prima confronto e paragonabile a quello dell'OVS. Ma chi è che indosserebbe uno zaino del genere? Uno te lo vorranno sicuramente fregare e quindi io non mi sentirei tranquillo girando con quello addosso. E poi chi è che se lo potrebbe comprare? Il figlio di Fedez? Ciao Fedez, fammi entrare nella tua agenzia, voglio diventare VIP. Ovvero voglio i panzerotti. Secondo voi quanto potrebbe costare un mouse per il computer? Secondo me dai 5 ai massimo 50 euro? 80, 90, 100 quelli da gaming professionali? Bene, questo mouse che stiamo vedendo costa tantissimo, tipo 50.000 euro penso. Perché ha 34 carati. Se mi sbaglio ovviamente correggetemi nei commenti. Che poi secondo me è scomodissimo perché il mouse deve essere morbido e non appuntito con le pietre sopra. Quindi immaginate come si ritrova la mano dopo un'ora di gioco su Fortnite. Piatolo, 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 quello, 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 costruisci, costruisci, piatelo. Oddio mio, che cosa ho fatto? Quando si possiedono tantissimi soldi si utilizzano incavolate. Tipo quest'uomo che ha pagato 500.000 dollari un pezzo di Mars. E la madonna che un euro costano al supermercato, vale la pena spendere così tanto? Nick guarda che Mars significa Marte in inglese. Lo sapevo già, volevo fare la battuta. E comunque questo è un acquisto di un altro pianeta. Se qualcuno si permetterà di dirvi sei più falso delle banconote del Monopoli, fategli vedere questo gioco. Perché qui abbiamo il Monopoli dorato. E le banconote valgono di più delle banconote vere. Però a mio parere è un po' scomodo per giocarci. Perché si sentirebbe sempre il rumore del metallo che tocca sulla base. E quindi è un po' scomodo, no? Immaginatevi la scena. Wow, è proprio bella la nuova foto che ho messo su Instagram. Ma cos'è sto rumore? Ma che stai facendo? Sto giocando a Monopoli, perché? Monopoli? Ma noi stiamo a Bari. Ma questo è scemo o fa finta? Nella foto successiva abbiamo un oggetto che costa più di tutti gli oggetti che abbiamo visto fino ad ora. Abbiamo un'automobile che costa 5 milioni di dollari. Perché è ricoperta di diamanti. Per Dindirindina! E se un pandino facesse l'incidente con questa macchina rompendogli lo specchietto? Che dolore! Nell'immagine seguente abbiamo la carta igienica dorata. È impensabile che della gente si pulisca il sedere con l'oro. Scusa Nick, ma l'oro chi? L'oro, ma si scema. E comunque 60 mila dollari per della carta igienica è esagerato. Ma ha pur 10 euro, eh? Ehi papà, mi puoi dare 60 mila dollari? Quando? 60 mila dollari? E che devi fare? Devo prendere la carta igienica d'oro. Ma sei scemo? Senti, vai a cagare. Ok, ci vado a cagare, però dammi 60 mila dollari. Sennò come faccio a pulirmi senza carta igienica? Mi pulisco con la foglia del fico? Non ci crederete mai, ma questa tavola da surf costa 2 milioni di dollari. E a primo impatto mi sembrava un cucchiaio di legno gigante, quello per girare la pasta. Però vorrei dire una cosa, quest'uomo è conciato da barbone e non vorrei offendere, per carità. Se quest'uomo ha comprato questa tavola da surf a 2 milioni di dollari, vuol dire che lui è ricco. Oppure erano tutti i soldi che aveva e li ha spesi tutti lì. E dopo la carta igienica dorata non poteva mancare il cesso dorato. E ovviamente costa un botto. E immaginate quando la mattina vi svegliate e vi siedete sul water. Minimo quello è super ghiacciato, peggio di quelli di ceramica. Ma no, che freddo! Ice ice! Cool cool! Troppo freddo mi fa male il cool! E qui invece abbiamo l'idolo che ha vinto tutti, secondo me il migliore. Questo è un giocatore di NBA, ovvero pallacanestro in America, e si è messo il bancomat in casa. Però ci sta, perché di solito quelli che vanno al bancomat si nascondono, non vogliono far vedere il pin della carta. E quindi tu te lo metti a casa, così prelevi direttamente anche i mutande. E immaginate se entrasse un ladro a casa sua. Ah, finalmente a casa. Che relax. Ehi, brutto ladro maledetto! Cosa ci fai in casa mia? No, no, niente, niente! Stavo prelevando dal bancomat, perché quello che sta in piazza è fuori servizio. Ah, ok, scusami, vuoi un caffè nel frattempo? Sì, senza zucchero però, grazie. Nella prossima immagine abbiamo tre spazzolini per i denti. Uno di bronzo, uno d'argento e uno d'oro. Chissà quanto varranno, secondo me potrebbero essere dei bellissimi premi per le Olimpiadi dei Dentisti. Consigliato da 9 dentisti su 10, come tutte le pubblicità dei dentifrici. Conoscete Beyoncé, quella che canta... Bene, lei ha speso 100.000 dollari per dei leggings fatti d'oro. Ok, saranno fighi quanto vuoi, però, uno, costano tantissimo. E vabbè, per te non è un problema, casi Rick. Però, due, sono scomodissimi. E sembri tipo il robot dorato di Star Wars. Che poi se Beyoncé va a correre con questi leggings, fa le scintille in mezzo alle gambe. E poi se si strappano non va dal sarto, ma va dal fabbro. O dal gioielliere. Bicicletta d'oro. Esiste anche quella, costa tantissimo. Però, secondo me, un vero intelligente non la comprerebbe, perché l'oro è più pesante. E quindi, un vero professionista ricco, si compra la bicicletta in fibra di carbonio. Che è bella leggera, va veloce e sei fighissimo. Yeah! Sono stato uno stupido a pensare che quell'auto fosse la più costosa di tutti gli oggetti visti in questo video. E invece qui abbiamo una cosa che è costata 22 miliardi di dollari. E abbiamo quest'uomo, sicuramente poverissimo e tantissimo, che ha pagato tutti questi soldi per farsi iscrivere su un'isola a Mad, che sarebbe il suo nome. Vabbè, oh, se devi spendere tutti questi soldi, almeno scrivevi una cosa più simpatica, tipo scemo chi legge. Oppure con quei soldi facevo venire Cristiano Ronaldo a casa e gli facevo fare le pulizie. Ehi, Cristiano, hai pulito la cucina? Sì! E il bagno? Sì! Bravo, comunque meglio messi. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Spero con tutto il cuore che vi sia piaciuto. E per questo mi invito a mettere un bel like al video. E adesso passiamo a salutare le ultime 5 notifiche che mi sono arrivate sul mio profilo Instagram, che sono Emilia Arancio, Lisa Marie, The Boy Mada, Kawaii Antonella e Super Pazzox. Se anche tu vuoi essere salutato in un prossimo video seguimi su Instagram, iscriviti al canale e attiva la campanellina per ricevere tutte le novità e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ah, un'altra cosa bella che possiamo fare. Condividete questo video nei vostri gruppi Whatsapp, mandatemi lo screen su Instagram nei messaggi e io vi risponderò. Va bene? Ci sta come cosa? Fatemelo sapere commentando con Whatsapp e io vi metterò il cuoricino al commento. Voglio proprio vedere chi arriverà alla fine del video. Ciao!